no 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 ok ci sono solito torre mi trovo io una ben cattice merda la solita torre vedi una torcia che faccini spegni sotto si ce l'ho uno zaino io il tibet quello piccoli gg scendi che andiamo a giocare arrivo arrivo luigi forse giugno lezzico chiaro c'è tutto nel capino si è un colpi schifosi per me sicuro che c'è il pombo che spara cotone d d d d modoni e gioccoli in the fence by the mountains per te dell'auto posse dove siamo noi si allora andiamo qua un po aspetta un secondo si ho ragione io le statistiche sono sempre le stesse come anche il livello io sto più avanti bro mhm prosegui qua vicino a rigendo voglio comunque si lo scav gli xp che prende le abilità che aumenta gli rimangono non non sono casuali proprio come il pmc le abilità come te le aumenti te le tieni anche con lo scavo ora ne ho la certezza chi è sparato? ho ucciso un qualcosa non so se era un giocatore però vabbè stava lì fermo ho pensato che ci spara credo sia uno scav allora io facendo la torcia per vedere sto dentro io davanti a te qua c'è un cadavero potrebbe un attimo mi sto luttando sto cadavere lutta lutta ah un cazzo non aveva niente c'è un'armatura se ti serve però beh farebbe comodo perchè non ho armatura io certo la sono un po' sfondata ma è un gibernaggio anche meglio di quello che c'ho io è sempre meglio di non avere l'armatura o come dicevo una volta alza sempre meglio di un dito nel culo saggio eh cure vado a salire io sembra tutto assolutamente libero controllo tutte le stanze controllo tutte le stanze controllo tutte le stanze m ho trovato una siringa di mortine non so se ti può servire a te per la missione che c'avevi controllo ho trovato ho trovato una senza lontano e praticamente senza nulla vabbè comunque un'altra oh bro io ho trovato una n me la prendo che cos'è la n che cos'è la n la k quanto fa come fu l'accessoriato stan aspetta ma cosa c'è laggiù cosa ho troppato un sks io cosa vedo nei miei occhi dai eh non mi scappi bastardo io t'ho visto laggiù e il pompa da fiammice arriva come credo sia uno scambio c'è un sks bro prenditelo lo faccio lo faccio sul campo ma è un pombo quello che sta usato si ma sulle lunghe città dove stavo l'ho visto ci ho preso devo ricaricare laggiù occhio ucciso si è un pompa ma il pompa è per le lunghe città ci pompa è per la caccia qua c'è un sks prenderlo ehm qua anzi no aspetta va ti do un 105 tieni per prendere lsks aspetta che k 105 la posso buttare il pompa che uno schifo a prendere questo però di questo qui non hai caricatori tu no c'erano uno provese dell'arma mia ok allora se e perché mi ha messo un po' vabbè sto di fuori io ehm io che do la porta qui un singolo aspetta quando un pomeriggi l'uomo meno 45 t razzini niente ok ho trovato un caricatore per l'alba con dei colpi dentro che non so che colpi sono Se trovo un red dot posso usare ladder Che così è inutilizzabile e che proprio non ha mirino Per come è attualmente Oh ferro se io immagino Sì sì sono salito sopra qui Sto a sparare un po' di scav Ok Infatti c'è uno scavolo morto lì Ah laggiù E' laggiù da qualche parte o è morto C'è uno sopra il bunker stava Sopra il bunker lì dove c'è quel mitraione Che bombarda capito Ma poteva essere anche il giocatore Non lo so Sto ucciso Bravo C'era uno sul bunker lì vicino dove siamo spawnati Noi sta sull'altro bunker ora Eh lo vedo Mi sa che è il giocatore quello Colpito Sta dietro il caramadouro Ho visto Tira fuori la testa Non c'è mai un merino di precisione come ti serve No Io a vicino il fuoco al massimo E io ce l'ho impostato tipo a 58 Abbastanza che infatti lo vedo Perché l'ho visto che Si è messo dietro il carro armato Però se non sbuca fuori Lancio una fumogena laggiù giusto per spregarla Ho finito un attimo la stamina Mi sa che era sì il giocatore Perché si è messo là dietro Non ho sbocato più Non so Pure il treno sta arrivando Da vedere se ci sono già dei cadaveri Lì in zona Ma anche solo che ci buttiamo le robe Destitizie che abbiamo chillato Ma mi sa che se n'è andato il giocatore lì Abbiamo messo giustamente un attimo in difficoltà E se n'è andato Vedo io qua che c'è Caricatore per Da 40 colpi addirittura Ma poi guarda se grosso occupa tre spazi Scendo al piano di sotto io Che devo vedere se ci sta qualcosina Lutta ah già Madonna hanno già ripulito tutto Eh Ah minchia la pomogena è lanciata giusto lì Ma in realtà non la volevo lanciare così vicino Volevo lanciarla più in là Hai fatto un lancio corto Che lì è scivoloso sai Ha piovuto No no dicono tutti così io so qual è il tuo problema Ma ti posso dare un consiglio Più pippe E meno ragazza Devi allenare un po' di più con la mano destra Hai ragione Hai ragione maestro Chiedo scusi Allora Io sto dando un occhio laggiù ma Eh lo vedo di nuovo No aspetta ma è scav normale No mi sa che è giocatore perché si è fermato Si è girato verso una direzione Verso l'angolino lì dove c'era la torre dove hai risponato tu Ed è sceso verso per andare alla torre Non riesco a capire se è giocatore oppure oppure no Se hai in modo di uccidilo Uccidilo Se lo riesco a beccare fermo lo uccido Après è sceso la collina non lo vedo più Comunque non so perché col fog basso pare che fai pure più fps Sto gioco è rotto Apro la porta Io sono qui a destra appena entri nel tetto Che sto dando un occhio se c'è qualche altro scav da questo lato Ma Non vedo niente in nessuno Ah intanto che c'erano gli scav è un bene Perché vuol dire niente PMC nei paraggi Non vedo niente Sai popoposo un attimino Pai Si 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 da dove trodono Qua a destra tipo zona cisterne adalito ucciso il carabin il bunker là davanti a noi sul cararmato stava lì uno ok sicuro di averlo ucciso sicurissimo ok che ero qua vicino la cosa nell'angolino e sentite colpi però nessuno dei quei colpi per fortuna ma beccato anche perché non avrei cura già fatta una saluta di morti nello uomo minuti quello che vorrei fare io e passa e lutta tutti sti cadaveri che abbiamo fatto che c'è qui dentro no c'è mentre non mi ha ancora detto come ti sembra questa mia residenza estiva qui sul reserva come ti sembra un minare non piace che vedo che il primo non è buono non è periodo purtroppo però come vedi ho due terrazzi piano sopra e sotto qui molto ampli un garage con i veicoli ma si si vieni con me guarda ho visto che anche c'hai una bella camera da letto qui si si ovvio certo devi stare un po' attento che ti entro ospiti indesiderati vedo che ci hai fatto anche un cancelletto però prossima volta almeno chiudi eh si perché basta che metti quello però guarda devo mettere che anche il letto guarda qui mi hai fatto pronto il letto ce l'ho pronto ovvio guarda svegliami più tardi svegliami più tardi faccio un pisolino io è il letto per gli ospiti quello giustamente con ovviamente candela inclusa per fare un po' di guarda sei talmente gentile mi hai lasciato cassetti da esplorare ovvio ovvio ci tengo all'ospitalità gli ospiti a casa mia sono sacri il computer serve solo che me lo mondo tutto insieme ho sentito scav da qualche parte qui vicino molto vicino oh laggiù vuole player si occhio dove sta aspetta vengo a provare a stembrarlo dietro a noi spari comunque dove eh presente dove hai ucciso lo scav lì prima poco dietro dove sparo io ora guarda lì però io non ho più colpi eh pmc bello girato era però non sa sparare solo che si è messo nei cespugli ed è scomparso il bastardo non hai trovato tu per caso un mirino red dot no a me parebbe comodo che se lo trovo posso usare meglio l'ada quanti colpi c'ho io qua in questo nuovo caricatore io un attimino solo mi sistemo almeno un caricatore solo però con tutti i colpi che c'ho ok vai da vetro allora della capino ho terminato tutti i colpi proprio sei tu ferro sì sì scav boss occhio occhio solito posto mhm un attimo che sto ricaricando ok c'ho solo 24 colpi in questo caricatore per l'ado no questo è una festa però io sono messo troppo male come armi con il gioco uno occhio che ovviamente dalla sinistra qui ci possono sparare che c'era col giocatore abbiamo 9 minuti però no pazzo bisogna trovare un modo uccide qui scavraider vedo le loro gambe sto spostando uno st questo è il treno al treno il bu ti 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 no no non deve mettere avanti come dire dove stessi però guarda lato positivo tu spari il saluto accanto mi aumenta la resistenza allo stress ho ucciso un altro dei scapsos ok tolano mondiamoli quanti ne sei riuscito ad ammazzare tu così 2 aspetta se adesso se pusciamo forse riusciamo kill anche il terzo ok se dobbiamo pusciare dimmi tu quando dobbiamo scendere da qui si spero di riuscire a beccarlo con l'aver senza mirino che devo andare molto ad occhio e a culo dietro è che non capisco perché io ti vedo sparare no però non capisco il punto esatto dove sono sti rider ma guarda non ti voglio di cazzate perché anch'io li vedo però non ben sai che vedo chissà che cosa di loro capito senti quella k-105 ti sei finito i colpi? si totalmente mazzo totalmente scarico infatti dobbiamo luttare anche qualche calavere per fare munizioni se ce l'hanno o cambiare arma bene wolf dobbiamo scendere c'ho metà caricatore io e io buscio i rider perché abbiamo solo 7 minuti ti faccio compagnia pure io occhio dietro a sto treno rosso stavano eh questo davanti a me si ah l'ho uccisi tutti wolf che culo un attimo che me li lutto copri me e poi ti faccio lutta a te ok allora ti copro come posso aspetta che prendo la copertina va bene il played? eh si si played played assolutamente played tiene più caldo non la mia preoccupazione era col giocatore che era girato lì verso il bunker dimmi che ci avevano qualche arma seria che buttò la capino e almeno mi trovo un'arma con le punizioni il cazzo che era un'arma di punito questo ci aveva un mp5 rotto c'è fatto male smetti di lottare scamboli da ammazzare ok perfetto sei no more ok noi anche gli scape normali ci sparano per ora quindi 5 minuti si intanto comincia a luttarti questa gente qui oltre qua qua questo già una cappa lo lascio luttate quale quello che c'è lì? questo qua l'ultimo si c'è anche dell'armatura buona ok ok questo l'ho già luttato vediamo un succo ok ok una cappa 74 un minchia dobbiamo correre è solo un secondino proprio al volo perchè abbiamo l'uscita a fanculo lo sai si lo so lo so ci vuole proprio un mezzo secondo preciso sto finendo già di luttare oh 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 dobbiamo scappare dobbiamo scappare proprio no no scappa scappa non rischiare Svevo vieni vieni vai vai c'è la luce della torcia dietro accesa eh vabbè allora abbiamo l'uscita all in the fence by the mountains ok dobbiamo fare un bel giretto potente non rischiare perchè quello sicuro era qualche giocatore sconso no non so quello che era però no non ci ho preso aspetta che finito totalmente la stamina una siringhettina me la uso una capino senza rompi fiamma senza nulla una cappa 74u versione merda aspetta ma io c'ho tubo di riscaldamento tu non ce l'hai va bene vai ne esci tu perchè l'altra porra l'altra che hai detto tu io non ce l'ho uscita ok esce io vado verso le montagne all'avventura grazie a tutti Grazie a tutti.